Andiamo a dare il buongiorno a Giovanni Dufur, genovese a Goteborg, Svezia. Ciao Giovanni. Buon pomeriggio a Tiziana e a tutti gli aspettatori. Allora, a Goteborg, tra l'altro, se non ricordo male, ha festeggiato un compleanno importante, diciamo quest'anno, un po' a ritardo a causa della pandemia. Come mai da Genova sei arrivato a Goteborg? Diciamo che a dire il vero io vivevo già a Milano, avevo vissuto a Milano quattro anni e dopo un po' di esperienze di lavoro avevo un forte desiderio di provare un'esperienza all'estero, ecco, non magari trasferirmi in pianta stabile, ma comunque di provare l'esperienza e la prima opportunità che si è concretizzata è stata in Svezia, a Goteborg. E come si vive lì a Goteborg, Giovanni? È vero che nei paesi nordici funziona tutto, il welfare è molto avanzato, diciamo così, anche l'equilibrio fra lavoro e famiglia si riesce a tenere in modo diverso? Sì, diciamo che non avendo appunto un'idea precisa di dove sarai finito, penso di essere stato abbastanza fortunato. Goteborg è una città più o meno delle dimensioni di Genova, è anch'essa una città di mare, e dei punti in comune, ma una cosa che abbiamo notato è che sicuramente la qualità della vita è decisamente alta, o perlomeno per quello a cui piace fare a noi. Sicuramente tranquilla, ci piace come la città viva gli spazi, come i cittadini possano vivere gli spazi della città, e quello che si cerca di organizzare attorno ai diversi angoli della città. Un'altra cosa che sicuramente è bella è il fatto che la natura sia veramente accessibile e a due passi dal centro città. Vedete magari nelle immagini in sua impressione qualche edificio un po' più moderno, perché insomma si costruisce in continuazione, ma una cosa che decisamente ci piace è la possibilità, veramente nel raggio di un paio di chilometri, di poter essere nel mezzo della foresta o di fronte a bellissimi laghi e a bellissimi luoghi da un grande valore naturalistico. Il welfare sicuramente sì, come hai accennato, quello è anche un marchio di fabbrica della Svezia, direi in generale. Ci sono un sacco di supporti per i giovani che vogliono studiare, e visto che comunque la Svezia non ha tantissimi poli universitari, i giovani tendono a trasferirsi poi nelle città più grandi, quindi da lì subito inizia il supporto dello Stato per fare in modo che i giovani possano avere una buona formazione e poi va avanti, più avanti, quando insomma i giovani iniziano a creare famiglie con dei servizi che sono veramente a misura di famiglie con bambini piccoli. Visto che questo è anche il mio caso da un po' di anni a questa parte, sicuramente diventa molto bello e per certi versi agevolato vivere qui. Beh, di certo non è come in Italia. Senti Giovanni, di che cosa si parla lì in questo periodo, in questi mesi? Insomma, nel nostro viaggio in giro per il mondo ci aiutate anche a capire come molto spesso alcuni temi, diciamo così, di dibattito pubblico siano gli stessi, altri invece sono totalmente diversi. Lì di che cosa si parla? C'è da dire che il dibattito pubblico in Svezia non è così interessante, magari così acceso come in Italia, nel senso che gli svedesi hanno delle opinioni molto moderate e un approccio a certi temi che mirano più a trovare, diciamo, un punto d'accordo comune piuttosto che al conflitto e al bisogno di fare polemica per il gusto di farla. Sì, a me verrebbe da dire che è bello, poi non so ora, vista da qua, mi verrebbe da dire che è bello, però ci saranno i pro e i contro. Ci sono i pre-contro ovviamente, diciamo che dopo un po' di Italia sicuramente fa piacere vedere anche la possibilità di parlare di determinati temi senza necessariamente scannarsi. Dall'altro lato può un po' mancare il confronto vero e proprio su alcuni temi, quindi diciamo che c'è un lato magari della personalità svedese che tende sempre ad evitare conflitti che poi fa sì che magari invece su certi temi, ok, che non ci si scontra ma non ci si confronta neanche e quello magari è un po' un limite. Per quanto riguarda i temi adesso, beh, simile all'Italia direi comunque ora, il 2023 è stato un anno contrassegnato da alta inflazione anche in Svezia e sicuramente da un po' di rallentamento economico, quindi penso che le sfide del governo per il 2024 siano appunto fare fronte a questi consumi che sono anche in Svezia un pochino ridotti. E poi sul lato della politica estera c'è sempre la telenovela dell'accesso della Svezia alla Nato che non è ancora concluso, ci sono delle negoziazioni in corso con la Turchia che ha opinioni diverse e c'è tutto un palleggio di responsabilità che adesso non abbiamo il tempo di discutere ma che potrebbe risolversi nei prossimi mesi. Allora, grazie Giovanni, come sempre ti lascio salutare, come sempre facciamo i nostri telespettatori nella lingua del paese che ti ospita oppure si vuoi anche dire Buon Natale, eh, scegli tu, però io ti prometto non lo ripeto. Ciao, ciao Giovanni, buon Natale e buon anno, ciao.